Noi affrontiamo tutte le partite alla stessa maniera, sappiamo che dobbiamo andare in campo a fare la nostra partita al 100% perché comunque se non l'avessimo fatto neanche con l'Alessandria probabilmente nemmeno potevamo parlare di Geno. Sappiamo che comunque il Geno è una squadra di categoria superiore, una squadra che ha ottime individualità, soprattutto lì davanti e sappiamo che dobbiamo dare il 110% di noi stessi per stare a loro pari. Noi ce la metteremo tutta, poi vediamo in campo cosa succede. È un motivo di orgoglio aver portato una squadra di Serie A, non per un amichevole ma per una partita ufficiale. Questo è un motivo che a noi ci rende felici perché significa che in questi anni che siamo stati qui abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi noi siamo contentissimi anche per la nostra città, per Lanciano proprio come città, per i nostri tifosi che hanno la possibilità di vedere squadre così importanti qui al nostro stadio e quindi noi siamo veramente contenti. Speriamo di regalare un'ulteriore gioia anche se sappiamo che sarà veramente dura. Mi sembrava assurdo ma io non sto seguendo assolutamente nulla. Giochiamo a 21-22 squadre. Io so solo che prima di arrivare a Catania io so che noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo cercare di inserire tutti i nuovi arrivi nel miglior modo possibile e quindi dobbiamo costruirci ancora bene. Abbiamo ancora due settimane per inizio del campionato. Sappiamo che quest'anno ci sono squadre veramente forti e quindi sarà un campionato durissimo come è stato l'anno scorso e come è stato due anni fa. Quindi ripeto, noi dobbiamo pensare ad oggi, ad allenarci e a costruirci come gruppo e come squadra per arrivare pronti a Catania. Sappiamo quello che è stato l'anno scorso, sappiamo che è stato qualcosa di importante, per come è finita, perché a mio avviso potevamo rientrare nei play-off, però è inutile guardare dietro. Allora, come ho detto prima, è lo stesso discorso di prima, dobbiamo pensare a costruire in modo sereno, tranquillo. Noi sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, poi pian piano vedendo le prestazioni e i risultati vediamo cosa succede, però sappiamo che dobbiamo concentrarci sulla salvezza, in modo molto sereno e tranquillo, senza stare a pensare a due anni fa l'anno scorso.